che lui chiamava Culatelliera. Dove c'erano i culatelli appesi, direi che ciascuno o alcuni erano appesi a una carrucola con una specie di corda da campanaro che permetteva, scivolando la corda sulla carrucola, al culatello di salire o scendere. Allora lui gli ha fatto scendere uno in un religioso silenzio, silenzio con la ciegliera e gradito in silenzio. Poi ha tirato fuori questo suo ago tendine del cavallo. Il metacarpiano accessorio del cavallo. Perfetto. Fido di Gesù. Ha forato il culatello, se l'è passato fra il naso e il maffio, ha donato e poi ha deciso di tirarlo su a una certa altezza. E io ho ammirato il silenzio a guardare questa cosa nobilissima. Finché a un certo punto, finita di ciccolare la carrucola, ho detto, scusi, guarresti, ma tutto questo serve? Ah no, non serve a dire, ma mi arriva da male. Grazie.